Yu-Gi-Oh! Tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi siamo qui con un unboxing che mi piace perché diciamo che ve ne ho parlato in passato e sapete che non vedevo l'ora di aprirlo ma prima di tutto vi ricordo un paio di cose in primis questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da magic corner quindi se volete comprare carte singole o prodotto sigillato trovate il link del loro store qua sotto in descrizione mentre come secondo punto anche molto importante se volete convertire le vostre carte di Yu-Gi, magic e pokemon in denaro sonante vi ricordo che sempre qua sotto in descrizione potete trovare il mio instagram scrivetemi mandatemi le foto di quello di cui volete liberarvi e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare come ultima cosa ovviamente non meno importante vi ricordo che se volete supportare questo canale vi basta solamente mettere mi piace e iscrivervi poi qua sotto c'è anche il link di Twitch se volete followare e subarvi grazie detto questo andiamo all'unboxing e speriamo di trovare un braccio d'exodia per un seghino tattico mettiamola così il destro sarebbe meglio diciamo ma vabbè andiamo subito con l'opening che ragazzi se mi esce un access code volo perché dovrei comprarlo e ho annullato l'ordine è un po' sceso non mi andava di strapagarlo ma vabbè che poi questo box è in inglese quindi io cerco le carte in lingua inglese quindi è tutto è tutto perfetto ma vabbè a parte questo vi vorrei far vedere quanto è tamara sta roba nel senso bello è belle le nuove carte crystal beast però boxettino un po' tipo da ragazzi carta migliore del set comunque vi stavo dicendo comunque mi ricorda molto quei box falsi degli anni 2000 ma vabbè questo è prodotto ufficiale konami tranquilli ragazzi non prendete una scammata allora spostiamo sti cazzo dei pacchetti e andiamo a vedere i quattro artwork di cui uno piegato che abbiamo all'interno di questa espansione abbiamo il carbancol la tigre la tartaruga il mammut niente pegaso mi sembra giusto detto questo inizierei perché non ricordo il trick non ricordo quante carte ci sono so solo che sono tutte ultra e una secret come il brawl dell'anno scorso che diciamo quello dell'anno scorso faceva un po' schifo considerate che l'unica carta buona che vale ancora è anima dei maghi droplet che vabbè è stata reprintata e tipo malicius bane e capitano gold una roba del genere ma lasciamo sta vabbè comunque abbiamo questa che è bellissima è una delle mie carte preferite del set poi abbiamo caos daedalus tartaruga smeraldo vabbè carteggi golem che non ne avevamo bisogno e il primo crystal beast secret oi amore ma spegni sta roba devo mettere mia voce che devo chiedere una cosa dei gossip di osi comunque stavamo dicendo bellina eh gli artwork nuovi sono fighi un botto soprattutto perché l'hanno fatti secret e non ultra perché vabbè ragazzi l'avessero fatti ultra era tutto da cestinare allora andiamo col prossimo abbiamo blackwing zephylo carino spero in qualche vaio un playset di vaio lo voglio perché sono bellissimi secret allora abbiamo scirocco gadget box e il primo vaio che bello è bellissimo no ragazzi è bellissimo è fucking bello mi sento una persona migliore ad averlo sbustato vai tocca che mi fai usci il playset non stanno niente però oh abbiamo già spoilerato il doom kaiser dragon anche questa carta che volevo non sta niente però sai però per adison sono carte top allora abbiamo hole porta mazzone si poi abbiamo mammut il reflection doll poi la poison wind e il doom kaiser che ragazzi è bellissimo è bellissimo mamma mia qua c'è devo devo montare il mazzo edison per forza andiamo col prossimo abbiamo uno dice rebellion dragon sono molto contento perché ne ho due secret grazie konami poi abbiamo edge aim chain ottimo adesso speriamo anche in patchwork così piango poi raging the black ball star comunque veramente patchwork potevano farla secret toon are pure lady ultra rara anche anche questo non è male sta tipo 45 una roba del genere va bene è uno dei supporti nuovi per il mazzo del cavaliere della regina del jack comunque vi stavo dicendo sarebbe bello beccare nel pratico un bls o una delle due magie che anche quelle stanno a qualcosa comunque ho visto i nello slot della secret qua abbiamo salaman great circle ad vasi dark un altro zephyros rainbow bridge comunque bls secret ho detto una cazzata numero 100 ottimo una delle carte che dovevo comprare allora allora l'unica cosa è vorrei confidare in roba buona non per forza mi deve dare roba incredibile come una prismatica però almeno la roba che devo comprare abbiamo dice dungeon poi dream shark vabbè l'aquila abbiamo la dragon nail e una key silk secret ottimo che queste carte costavano una fracca o prima perché tanto uscivano da jam jam non è mai stato reprintato set del cazzo ottimo e adesso sono molto più belle a parer mio rispetto a quello spava che palle un altro cristal beast spero almeno non un'altra pantera abbiamo altro circolo emblema dei di panda patrol poi tigreto pazio chiamata eroica un pegaso ottimo non so se metterli tutti in collezione non lo so è da valutare prossimo pack abbiamo 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 che palle mi spoglio sempre l'ultima abbiamo un pegaso crystal school bellissima questa ve l'ho già detto è una citazione è una carta dell'anime di 5ds ottimo se mi da anche ecco stone angel volevo questa apposto costano una miseria e non mi andava di comprarle e infine abbiamo un bello aquila cobalto beh se proprio me li deve dare spero me li dia tutti in mono così sono contento l'unica cosa che fai compri questi compri gli altri ultimate compri il drago arcobel normale quello scuro secret e spendo un sacco di soldi la collezione non si fa bene o si fa bene non esiste farla male dopo una patchwork ottimo spero nelle altre due imp filo di catena va bene cartaggi golem totalmente inutile thunder ball inutile e o dice fantasma dragon ho visto ho visto ho visto ho visto link ho visto una cosa bellissima che potrebbe essere un'altra cosa bellissima abbiamo questo che gioca baseball una carta g golem dina tank dream cicada e artemis va bene vabbè sta un euro vaffanculo che coglioni almeno dammi selene che anche quella mi serve poi poison wind oili g golem il gatto e ragazzi la carta più bella del mondo come di cosa stiamo parlando è in creare è la carta più bella del mondo è la carta più bella del mondo basta adesso voglio anche la voglio anche l'altra o la comprerò 80 centesimi allora abbiamo royal straight o ili cicada gale ultra non è male curso reflection doll e il carbanco rubino alla fine o tutti mono apposta cioè l'unico modo per collezionare tutta sta roba è o faccio il set che ci potrebbe stare o collezione determinate cose ma dopo si espande la cosa a macchia d'olio su cose che non vorrevo che non volevo comprare perché dopo devo devi prendere nm tutte in prima perché queste sono in prima e poi ti tagli la gola in senso o bruci il portafoglio allora abbiamo full armor master che anche questa era buona perché non non esistere print usciva secret e ultra da led una roba del genere poi abbiamo caos valkyria royal straight gravity balancer e un altro dom kaiser dragon che ok però ci sono tante belle secret e tante belle prismatiche da tirare fuori konami perché non me ne ho visto magia ma già cosa potrebbe essere e call space che anche quella non sarebbe male ero al call battle of sleeping spirit doodle book e n shuffle cioè ragazzi oh c'ha degli artwork che sono incredibili eh cioè queste carte hanno degli artwork bellissimi però non si tira a campaco gli artwork incredibili fate artwork incredibili perché anche le carte costose così e poi mi metti anche le carte costose dentro belle comunque no veramente figo cioè sono molto contento di aver sbustato sto set molto più dell'anno scorso ovviamente abbiamo raging the blackboard star un corvo finalmente grazie poi abbiamo dimension dice questa carta riprende un gioco che compare nella serie principale fatto da un amico di yugi di da duke devlin adesso ricordo e niente così si chiamava dice most ovviamente yugi vince poi abbiamo sirocco è solo secret e andiamo ieri ne parlavo con convergence e gli ho detto luca 100 100 access code guardate era scontato era scontato che uscisse access code allora grazie allo stadio che mette la musica grazie 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 mille abbiamo dna base poi thunderbolt un crystal beast a pegasus no è sempre lo stesso però quanto quanto è bellino ci sono cose che non si possono comprare tutto il resto c'è i doodle beast io spero che la konami continui questo incredibile capolavoro allora andiamo col prossimo pack abbiamo o dice rebellion dragon poi un altro stone edge poi gram the shining star dream cicada va bene va bene questo non ce l'avevo la tigre topazio guarda se ci avessi avuto un altro box magic corner se mi vuoi mandare un altro box sarei più che contento ho visto link potrebbe essere selene abbiamo tartaruga cobalto o token collector almeno uno per celò poi carbanco rubino todoroki e un gigolem ma poteva andare meglio eh diciamo tra i link è l'unica roba che non si vuole mai sbustare poi oh forse mi sbaglio sarà meta in tutto l'anno prossimo però per adesso me ne frega un cazzo abbiamo armhole master toon terror crystal beast tigre topazio toolbox uh e saplier secret mi sembrava l'avessero fatto ultra meglio è più carino almeno da tirare in ad amanzipator allora 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 abbiamo questo od eyes bello poi abbiamo questa carta mazzones sbora la lancia poi carta morfotronic e un'altra carta od eyes comunque ragazzi c'hanno pure sti colori ste carte che cioè ragazzi non non so era un pezzo che non mi piava così bene sbustare è rimasti 4 pack anzi mi dispiace un po' che è finito abbiamo gattametista dimensional dice ho le palle ieratiche che gli rilaudate via gale e l'altra level twin le abbiamo tutte e due adesso adesso un braccetto d'exodia proprio perché uh abbiamo un'altra patchwork due per adesso un'altra palla poi amazzones hole gram the shining star e lander patrol secret ma bellissimo ragazzi parere mio compratelo a me piace un sacco sbustare sta roba cioè ne prende proprio bene alla fine avete visto ho tirato fuori pure access code quindi nel senso la roba esce poi oh c'è box più fortunati box meno tanto se lo comprerete potreste trovare anche la prisma se volete magic corner qua sotto in descrizione soprattutto perché costa meno di un set ufficiale quindi c'è un set standard quindi se volete sbustare e invece carte foil questo secondo me è il prodotto giusto sappia ottimo andiamo con l'ultimo dai adesso non dico tanto ma almeno un toon un toon bello abbiamo ninjitsu cioè i ninja insetto perché crystal skull senko rainbow rainbow ponte dell'arcobaleno questa potevano fare secret e nooo un'altra aquila e vabbè capita raga manco una carta toon un bel bls cazzo niente vaffanculo però il senso parliamone mi è andata anche relativamente bene eh sono molto deluso per lui che non metterà mai a fuoco però avete capito che è la carta più bella del mondo e non è uscito suo fratello dov'è lo stegosauro? no questo è lo stegosauro dov'è il tirannosaurus rex? vabbè tocca ordinarlo dal market per forza vabbè ma a parte quello comunque c'è uscito access code che è il senso non dovrò comprarlo non dovrò spendere questi 40 euro che cosa bella poi vabbè c'è roba per edison ragazzi la camera ha deciso di non mettere mai più a fuoco le carte abbiamo il doom kaiser abbiamo vaio che è bellissimo no ragazzi vaio è assolutamente da recuperare guardate quanto è bello nella sua sfocatura è incredibile le tonalità di colore che non si capiscono top incredibile questo succede quando credete nel cuore del vostro portafoglio incredibile detto questo ragazzi stronzate a parte grazie mille per aver seguito questo video mi fa molto piacere che dopo quanti anni so che faccio video 6 anni ancora state qua sia ai nuovi che ai vecchi detto questo ragazzi statemi easy e noi ci rivediamo domani so bravissimo e esce domani con un nuovo video grazie a tutti ciao grazie a tutti